La proposta del Movimento 5 Stelle sarà sviluppata online a partire dalla prossima settimana. Grillo ribadisce che questo Parlamento è incostituzionale, non può occuparsene. Bisogna tornare al voto col Mattarellum, intanto noi faremo una consultazione online per proporre in maniera veramente democratica la nostra legge elettorale che sarà discussa dal nuovo Parlamento, finalmente legittimo.